La complessità è aumentata e aumentata e Lamborghini si è preparata, si è preparata cercando di mettersi a bordo quello che serviva per il passo dopo, quindi anticipare quello che doveva essere la necessità per i nuovi prodotti, per i nuovi progetti, per le ambizioni che aveva il brand. E' una delle cose che riconosco, soprattutto a Maurizio, è la lungimiranza di condividere con i partner tecnologici di quel momento le strategie, le iniziative senza preoccuparsi dell'aspetto tecnologico, quindi non chiedendoci una soluzione tecnologica, ma raccontandoci quale sarebbe stata la sfida da lì ai prossimi 16-18 mesi, dandoci la possibilità di studiare e di capire quali erano le tecnologie migliori per poterlo fare.